Certamente era un'occasione questa per cercare di lavorare insieme alla federazione, insieme alle strutture federali per rimettere un po' di ordine. Ordine che vuol dire? Non vuol dire qualificare le squadre perché lo sport è fatto di vittorie e di sconfitte. Certamente è stata una sconfitta dolorosa, non essere presenti al mondiale in Russia nella prossima estate è un fatto molto grave. Però non è quella la punta del problema del calcio italiano. Il calcio italiano ha un problema di reclutamento, di formazione dei giovani, di organizzazione dei campionati. Se voi fate caso, purtroppo ogni anno, anche a livello di Lega Pro, ci sono squadre che non vedono confermata l'iscrizione. Abbiamo perso quest'anno il Modera, che era una piazza tradizionale che stava in Serie A quattro anni fa, quindi è chiaro che sono dei problemi grossi. Noi non andiamo a discutere come Coni, il direttore tecnico, allenatore, è un problema di pertinenza e di autonomia federale. Però certamente eravamo pronti con loro a fare un discorso di rivisitare anche alcune pagine dell'attività quotidiana come lo statuto, le regole elettorali che sono abbastanza complesse e volte non rispecchiano effettivamente la volontà democratica del mondo del calcio. Probabilmente il calcio il 29 di gennaio troverà un suo presidente al quale auguriamo tutto il bene possibile. Non gli negheremo il supporto, se richiesto, per qualunque tipo di attività, di consiglio, ma è chiaro che la competenza è del mondo del calcio, non è nostra.